Al via le prove di ammissione e corsi di laurea in medicina ed ontogliatria. A Palermo, dalle ore 8 di questa mattina, migliaia di aspiranti camici bianchi per un totale di 287 posti disponibili. I test che sono iniziati alle ore 11 nelle diverse aule disposte dall'Università di Palermo avranno una durata di 100 minuti. Nonostante gli sforzi profusi nella preparazione, stando ai sondaggi infatti, quasi un terzo dei candidati ha iniziato a studiare tra i 7 e 9 mesi prima, ma anche agli sborsi economici e nel particolare un quinto di loro ha speso più di 500 euro tra libri specializzati, corsi di preparazione, simulazioni online e lezioni private. La matematica non lascia margine ad incertezze e saranno molti a dover rimanere fuori dal gioco, almeno per quest'anno. La speranza per chi non dovesse farcela subito è riposta nello scorrimento della graduatoria ed in qualche eventuale errore del MIUR nel corso dello svolgimento del test che consentirà a chi ne avrà voglia di fare ricorso e tentare comunque di entrare nonostante l'esito della prova. Secondo delle percentuali degli anni passati infatti, il 49% degli esclusi si opporrà anche di fronte alla minima infrazione. Il 39% ricorrerà solo per palesi irregolarità, appena il 12% accetterà passivamente il risponso qualsiasi esso sia. Un'altra alternativa presa in considerazione dagli esclusi potrà essere quella di iscriversi ad una facoltà che consenta di fare nel corso dell'anno accademico 2017-2018 due esami a medicina e tentare nuovamente il test dell'anno prossimo.